Luca! Nanni! Ciao Luca, come stai? Ciao, bene. Bene? Tutto bene, tu? Bene, bene, tutto bene. Ti share lo screen. Bene, bene. Ecco. Allora, io partirei da Ikea. Ma devo scegliere Ikea normale o Ikea Pisa? Allora, allora, allora. Scusa, scusa, scusa. Partiamo bene. Sì. Partiamo bene, evitiamo di farci prendere adesso dalla fretta. Va bene. E cerchiamo di capire. Sì. La cosa più importante è questa. È. Il budget che hai e cosa cerchi? Allora, il budget dipende. Dipende perché alla fine comunque è come comprare il luogo di lavoro. Perché alla fine ci lavoriamo, cioè ci viviamo noi davanti al computer. Bravo. Quindi, non lo so, non ti dico mille euro, però un 500, 600, però se proprio al massimo è, non è che uno deve spendere per forza. Siamo sul budget, 5-600 euro massimo. Sì, sì, sì. Va bene, va bene. Partirei guardando le AirDesk. Ma c'è un sito particolare o? Tizia AirDesk. Dov'è sotto? Ah, eccolo qua. AirDesk. Ma non è questo? Non è questo? Ti sei comprato questa, Luca? Scusate, ma questo è il sito degli anni 20. Cioè, con la grafica verde, le foto di bonus. C'è questo, c'è il tappeto, è dell'anni dopo del 98. Degli anni 60, c'è l'altro. Il titolo si chiama www.xdesk.com. No, paura, Luca. Ho veramente paura in questo momento. Questo è il top del top. La Herman Miller delle scrivanie. Qua stai sopra i 2000. Dai 2000 ai 5000 puoi arrivare. Ma t'ho detto, t'ho detto magia il 500, scusami. No, no, no. Allora, ti sto facendo un tour, perché prima noi vediamo quello che è il massimo. E poi da lì diciamo, di questo massimo mi piace, questo, questo e questo per me è inutile. Cioè, ho capito. E così lo siamo a capire bene. Ho capito, Luca. Ma è come se ti guardi un film porno di, non so, se esiste, di Megan Fox e poi dopo fai via. E adesso siamo fuori a raccattar barili a discoteca. E capisci che non ti deprimi. È come se tu ti guardi la Ferrari per comprarti la Punto. la Punto funziona uguale, ma magari cerchi la Punto che ha quelle caratteristiche della Ferrari che ti piacciono di più. Bella questa. Ma secondo me una, cioè che abbia una rientranza, una L-shaped, non sarebbe male. Ok, bene, abbiamo visto che la L ti interessa. Questa è molto carina, però in vetro no, in vetro è brutta. C'è più a U o a L? Credo... Ma... Forse a L, perché così c'è spazio, c'è comunque spazio per un'altra sedia. A posto, a posto, a posto, bravissimo. Rechiamoci su Ikea adesso, ora che ti sei fatto. Ma devo mettere Ikea o Ikea Pisa? Ikea.it si chiama. Sì, ma devo mettere Ikea o Ikea, o la sottrezione Ikea Pisa? Ma che vuol dire Pisa? È una città, Luca. C'è l'Ikea Pisa. Devo andare su Ikea Pisa se la voglio comprare da lì, no? Sennò magari mi arriva tipo da Catalissetta. No, 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 dopo ti dice il tuo Ikea più vicino in cui puoi andarlo a ritirare. Tu hai la macchina, nanni, sei automunito. Vabbè, però c'hai amici che ti possono accompagnare all'Ikea. Ma l'hanno potato spedire, scusami. Sì, sì. Allora che te frega se hai dei Pisa o no. Scusa, fai Ikea.it. Dai, che arriva prima. Secondo me, quello che serve a te, nanni, è un tavolo AL che si alza. Perché non le vendono motorizzate, Luca? Certo che le vendono motorizzate Ikea. Cioè, non regge 100 kg. Ma ne può reggere anche 70. Quindi io non ci posso scopare sopra. Sulla mia sì. Perché appunto regge 100 kg, però non è Ikea. Eh, ma scopo da solo, scusami. Se c'è due, a meno che pesate 50 kg l'uno. Tu sei 90 kg, mi ricordo. Eh, sì, 93, penso. Una roba simile. Prima te ne faccio vedere una brutta. Va bene. E se poi quella bella sembra la più bella. Scrivi adesso. Sì. A-R-S-T-A. Ok, apri la prima. Questa è praticamente una scrivania regolabile in altezza, non motorizzata. Come vedi, è una simpatica manovella. Vedi come la può girare? E questa, diciamo, è l'opzione economica per darti massima libertà per modificare l'altezza. Ma senza averla motorizzata, non è nessun cavo. Ho capito, ma sembra la gag di Adio Giovanni Giacomo. No, questa macchina non c'ha il c-b-z, c'ha la manovella. Ora andiamo a quella seria. Sei pronto, Nanni? Vai. Cioè, comunque c'ha la manovella, un bel ducentino, comunque, c'è messo lì. Beccan. Eccola qui, vedi? Questa ha un simpatico pulsantino che permette di far andare la scrivania su e giù. Non ha memoria, però se tu la tieni più o meno sempre uguale, ti permette di girare, insomma, far su giù, regge fino a 70 kg. Quindi è molto, molto comoda. E di questa qua puoi trovare anche la versione delle, vedi, ha un qualcosina per il cable management sotto. Molto interessante. Guarda i colori se ti piacciono, intanto. Ma i colori mi importano un cazzo, onestamente. Sono sincero. Picanto serve larga. Questa mi sembra un po' piccina. No, è 160 per 80, Nanni. Non è piccina. Aspetta, arrivo subito. Non andare via. Nanni. 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 Nanni, non ti sento. Nanni. Nanni, colore. Nanni, io non ti sento. Nanni. Nanni, sono in culo io. Sei andato in figa tu? Nanni. Nanni, pronto. Ah, ok. Ecco, ti auguro ti sento. Stavo dicendo, Nanni. Cosa è successo? Aspetta, fammi misurare. Cosa sono i centimetri? Perché qua ci... Allora, sarebbe un metro e 60, 160 centimetri in scala normale. Qua va da 1 a 10, 160. Scala dada, 160 sono tipo 2 metri e 40 in scala dada, tipo. Scala dada? No, c'è te li misuri con la scala normale. Eh, con il righello lo stiamo misurando, no? Con la scala. Eh, ok, ok, ok. Allora, fai 160 centimetri. Aspetta, sto avendo difficoltà. Nanni, quanti dada ti misura il cazzo? Quanti dada mi misura il cazzo? Non so quanto è la scala dada. 60 centimetri su un metro, no? 100 centimetri un metro. No, 60 centimetri. No. No? No, un... Ora devi guardare Rodolf. Rodolf? Eh, è più bellina questa. Ragazzi, contate che adesso c'è una schivania di 100 centimetri per 60 centimetri, quindi questa sarebbe già... Che è minuscola. Sì, è molto piccola. Questa Nanni è immensa per te. È immensa, no? Però, sì, è più grande. 140 per 80 ti dà 20 centimetri in più in profondità, praticamente, e 40 in più in larghezza. Sì, guarda, io mi accontenterei anche di un paio di centimetri in più in lunghezza, però, vabbè. Ok, ti do due, scrivi Flexi Spot. Ok, adesso iniziamo a ragionare. Sopra, sopra Nanni, sopra. Questa? Questa, sì. Sono già aperta di qua. Ok, qua c'è anche il codice sconto. Ma mi danno solo questo? Non mi danno il piano? Come ce lo metto io il piano sopra? No, no, il piano lo puoi aggiungere, il desktop. Guarda, ci sono i colori. No, il desktop è quello se lo schermo. Nanni, a destra, vai. Metti la freccia a destra. Ok, qua scegli il colore. Micchia, più 159 euro, insomma. L-shape. Però puoi scegliere se fare da 160 per cento, 180 per cento e venti, che è un cazzo di transatlantico. È grosso, eh. È enorme, 180 per cento e venti. Però, tu, le zampe che prendi motorizzate, ti reggono qualsiasi tipo di pianale. Sia quello da 120 sia quello da 180, perché sono estendibili poi. Però, insomma, Nanni, te devi capire qual è la priorità. Se veramente la scrivania L è quello che cerchi? Oppure se è solo un guizzo che vuoi soddisfare? Ma probabilmente è solo un guizzo che voglio soddisfare. Una scrivania normale va più che bene. Più che altro, perché magari così... Perché al massimo, Nanni, ti compri oggi una Rodolf e fra due mesi vuoi soddisfare il guizzo, ti compri un'altra Rodolf e le metti vicino se vuoi allungarti. Io non so neanche ora la planimetria del posto in cui andrei a stare, perché anche quello è importante capire. Eh, no, certo, certo. Anche quello è importante capire dove va messa la scrivania. Io ho preso questa qua. Quella lì, 140 per 70 con il cable management dietro. Ok. Perché ce l'hai la ganci eventuale per i costi, no? Sì, sì. Dentro ci sono praticamente delle clip al velcro che si attacca sotto per i cavi. Sono pulitissime. Non usate due su quattro. Sono molto comode. Però che spiego, se c'è un budget di 500-600 euro, qua vai sul sicuro. Se invece mi dici, voglio spendere 300-400 euro, vai su Ikea, però è ovvio che Ikea non te dura per sempre. Ok, sì, sì, sì. E questa qua l'ho presa, ma non la voglio mai più smontare. Cioè l'ho presa e sta lì. Più che altro, lo sai secondo me cosa dovremmo capire in realtà? Dove uno vuol mettere la telecamera. Cioè se tenerla così frontale, oppure approfittare appunto della scrivania L e spostarla per vedere anche magari cosa c'è sulla scrivania. Se uno ci vuole mettere tipo un box jungle prima edizione, un action figure da 2000 euro di Dr. Manhattan. Eh, quello è molto comodo, però Nanni devi essere tu proprio personalmente a valutarlo. Se te lavori in piedi, sì, ma. A sto punto prendi nuove l'Ikea. Io non ti ho detto che voglio prendere la scrivania da 50 euro su Amazon. T'ho detto che faccio un cazzo del motore. Se te lavori in piedi, ti serve. Ma se non lavori in piedi, a che cazzo ti serve il motore? E infatti prendi quella Ikea senza motore. Prendi la Beckham senza motore. Ma non c'ha, non fa L. Non lì, vai FIKEA. Luca, non è L questo. Non è L. Scrivi Beckham. Guarda che è L. Apri qua. Ma cosa è L? Questa è una sborrata, una carta di piccione scioltato nell'angolo. Non è L questa. Questo almeno è un pezzo unico, anziché due pezzi separati. Cosa 200 euro. È grossa come piace a te. Cioè butti tutto. E qui non c'è neanche il paradosso dell'angolo. Questa non è L, Luca. Non è L. È fatta per non avere il paradosso dell'angolo questa. Ma che me ne frega a me del paradosso dell'angolo. Io lo voglio il paradosso dell'angolo, scusami o no. Questa non è male comunque, eh. Questa qua è L. Non è affatto male, Luca. Ti ho detto che è buona questa qua, infatti. Eh, lo so. Però mi rompe il caso che c'è il motore. Pago il motore che non lo voglio. Non c'è una cosa senza motore? Questa è fatta apposta per quelli che vuole lavorare. Eh, ho capito. Senza rompere schiena. Luca, ti ho chiamato qua oggi per un semplice motivo. Perché sei, cioè, un esperto di content in schiena e in questo momento non mi sai dare la soluzione alle mie necessità. Cioè, quindi... Tu hai dato la soluzione, ma tu vuoi qualcosa... Tu vuoi qualcosa che sia di buona fattura, ma non troppo. Non è vero. Io ti ho semplicemente detto voglio una schiena a L senza motore. Che non sia di compensato o pressato con la merda. Stai, prendi questo e tagli il motore. Non monta il motore. Aspetta, mi consiglio di guardare Salgent su Ikea. Saljan. Perché? Una tavola. È il pianale. Perché tu hanno capito che il tuo problema è il pianale che non l'ho incompensato. Quindi ti hanno consigliato un pianale, giustamente. È quello che avrei fatto io. Ma non l'ho fatto perché sicuramente ho risposto... Ah, però guarda, questo non c'è la scrivania. È questo un pezzo di legno. Ah, ho capito. Vabbè, ma c'è da... I costi di spedizioni, i biti, tutto, misurazioni. È un po' un problema, capito? Quindi in pratica non mi sai aiutare... Tu non vuoi essere aiutato. Non è che non vuoi essere aiutato, Luca. Ti sto chiedendo se conosci un sito che vende o anche la chat. Ok, ok, c'è che non si tira su. Vai. Vai su xdesk. xdesk, un'altra volta. Sì, sì. 1200 euro che non si tira su di prevengiorissima fattura, vai. Ma 1200 euro, Luca, non ce l'ho. Stop, shop. Non ce l'ho, 1200 euro. Non ce l'ho, 200 euro, Luca. Buona, questa qua. Quale? Terra Pro, Terra Pro, Terra Pro. Ma non ce l'ha la M? Vendi la prima. Questa? Sì. Ma c'è il motore. Build Terra 2, è scritto in blu. È scritto in blu, Nanni, è scritto in blu. Nanni in blu. Nanni in blu sotto il testo. Build Terra 2, in blu. Guarda come lo vuoi, il pianale. 1800 costa il pianale, come ti piace? Che vuol dire? Eh, c'è 1800 o 2005 il pianale. Dollari. No, 1800, vabbè. Ma qui c'è il motore, Luca? No, 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 non c'è il motore. C'è solo il coso per tirare su giù, ma tu non ci attacchi il motore. Vai giù. Questa è l'ottima fattura, ma io di così non c'è. Ma non è a L? Nanni, Nanni, vai giù. Dove, qua? Luca, sono 2000 dollari di schivania, come faccio a permettermeli io? Cioè, allora, allora, parliamoci chiaramente, Luca. Parliamoci chiaramente, io e te. Allora, onestamente. Cioè, te sei venuto qua... Adesso? No, 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 te sei venuto qua con l'arroganza di essere il dio delle schivanie, ok? No, sono stato convocato qui con la presunzione. Ok, no, no, te ti spacci, ah, per quanto ci mettiamo, 5-6 ore di ricerca. E praticamente, cosa mi viene fuori? Mi viene fuori che conosci i tre siti. Ikea, questo che è irraggiungibile e FlexiShop. Questo è perché non ti consiglierei mai un sito che non è valido. È questa la differenza. Si è capovolta la situazione. Ne conosco a centinaia, ma mai mi avrei dirti, Nanni, apri Amazon e guarda. Se lo fai bestemmiare, fai la storia di Twitch. Perché so che il 90% di quelle, poi dopo un anno, te si rompe. No, Luca, io non sono d'accordo. Io voglio una L-shape senza motore. E ora te mi aiuti a trovare. Scrivi, scrivi. Allora, ok, ok, si può fare, però devi seguirmi. Vai su Google. Sì. Fa legname, pisa. Nanni, è l'unico modo, se la vuoi, non compensata e fatta bene. Ok, vai giù, fa legname. A Carrara, ma a Carrara questo è per ricchi, ma sei matto? Nanni. Ma c'è il coso dello yacht, Luca, ma che stai dicendo? È una barca questa. Nanni, l'unico modo per avere quello che tu vuoi è qual... Allora, Nanni, 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 stiamo cercando di comprare delle scarpe per te. Ma tu hai un piede che ha 18 dita ed è fatto ad L. Ma non è vero assolutamente. Non è vero assolutamente. Possiamo scegliere. O se prendere una scarpa fatta a L che ci fitta il tuo piede dentro, però non ci fitta alla perfezione, oppure andare a creare una scarpa su misura. La scarpa su misura può fartene il signor falegname della tua zona anche. Ma non è vero. In questo momento io sono un ragazzo che vuole comprare un paio di scarpe, voglio comprare tipo un paio di ciabatte, e te mi stai dicendo, allora guarda, guarda me di questi stivali e questi tacchi. Io, no, 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 io mi dissocio dal paio di ciabatte. Ma cosa vuol dire? Apri Amazon, scrivi scrivania L, fai Amazon Choice, spunti la casella Prime e compri. Ma no! Io però me ne dissocio, non te l'ho consigliata io. Ecco, guarda queste qua. Ecco, sono mille. Queste sono quelle che cerchi te. Da queste qua, 700. Belliani. È uno che le fa bene, però costicchia, non è che andiamo sul lusso, ma Belliani iniziamo a... Cioè... Ma se non lo conoscevi fino a due secondi fa, Belliani, che non me l'hai detto. Stai scherzando, Belliani. Ma stai scherzando, ho detto, l'ho chiesto e non me l'hai detto. Perché non è oltre il tuo prezzo? Cioè, 700, 1000 euro, mi hai detto, 5, 600... Nanni! Ma questo è 670, costa. Non mi hai detto, massimo, 600 euro, sono 680. Vabbè, ma per 80, uno magari ce li mette, se è proprio una bella schivania, scusami. Ma sono elettriche, hai detto che non la volevi elettrica. Vabbè, ma che c'entra? Uno magari... Poi l'accetta. Se è grande, anche se è elettrica. Fino adesso che non la volevi elettrica, adesso la vuoi elettrica. Anche se è elettrica, che me frega, no? Alla fine facevo così per dire, cioè non la volevo elettrica perché volevo... Allora vai su FlexiSpot e prendi quella, che ti costa meno, ed è uguale. Però non è Beliani, scusami. Allora, compra la Beliani, fai come... Nanni. Nanni. Io, purtroppo adesso ho un appuntamento, quindi devo andare. Ho capito, però... Sono fiducioso che tu riesca. Ho capito, però... A capire quella schivania data a te. Sappi, che se vuoi un consiglio da me, io ti consiglio quella FlexiSpot, perché secondo me ti ci troverai bene. Beliani anche le fa belle, le pro, secondo me, spendi 100 euro in più e devi capire se è giustificato per te. Perché tu mi dici, questo non era il tuo budget. 6 euro è diventato il tuo budget, va bene. Ma poi su ti di Beliani non trova nulla, Luca, come mai? Devo fare tavoli o sedia? A presto, Nanni. Un salutone. Devo fare tavoli o sedia, Luca? Vediamo. Ciao, ragazzi. Vabbè, ciao, Luca. Grazie, eh. Ciao, prego. Nanni, vai su Flexi... Nanni, 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 Nanni. Fai esattamente quello che ti dico adesso. Nanni, apri FlexiSpot. Apri FlexiSpot. Basta con questo FlexiSpot! Prendi questa. Ok, fai il colore nero che ti piace. Le zampe nere. Ehi, le sembra quando io parlo con mio nome... Nero o bianco, scegli. No, quelle le zampe. Le zampe nere, bellissime. Oh, costa meno. Nero o grigie. Questa è un'offerta. Nanni, Nanni. È in offerta questa? Nero o grigie. Nanni, nero o grigie. E bianche. Le zampe, nero o grigie. Bianche. Nanni, le zampe c'è nero o grigie. Scegli. Nero, perfetto. Colore sopra nero. Fai nero. Fai nero. Ok. Fai misura grande. Ok, vai sotto. Scendi. Scendi, Nanni. Successivo. No, no, un posto. Prima di prendere il giugno. Successivo. 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 Nanni, successivo. Nanni, successivo. Nanni, clicca successivo. No, prima di prendere il giugno. A parte che non c'è soldi in conto banca adesso. Nanni, Nanni. Ho pagato oggi 2.000 euro. Successivo lo salvi. Poi lo compri quando hai tempo. Successivo. Vabbè, ma me lo ricordo che è questo. No, 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 no. No, non ti serve la ciclette, Nanni. Fai no, fai no. Fai no che ti arriva tardi dopo il prodotto. Fai no. Nanni, la ciclette no. Vai, successivo. Successivo. Questo? È buono. No, no, no. Successivo, Nanni. Questa? Che serve? Cos'è questa? Per mettere i cavi dentro. La spina per mettere i cavi dentro. Questa? Se ti serve prendila, ma quella c'è anche 15 euro. Fai successivo. Sto vedendo i gadget. Questo? No, ce l'ho. Successivo. E lungi il carrello. Però cosa sa più dire del mio budget? Paga con Paypal. Paga con Paypal. Clicca su Paga con Paypal. Non c'è soldi, non c'è soldi. Non c'è soldi. Cassa, veloce, Paypal. Non c'è soldi, Luca. Non c'è soldi. Ho pagato 3.000 euro in due giorni. Più 2.000 in ritorno. Sono andati via 5.000 euro in una settimana. Successivo. Codice sconto Spring. Metti codice sconto Veloce. Codice sconto Spring scrivi. Spring, 50 euro di sconto. Spring. Ok. Fai V. Bene. Applicato. Paga. Veloce. Non c'è soldi, Luca. Paga con Paypal. Non c'è soldi. Paypal. Nanni, te li addebita. Fai cassa veloce Paypal. No, non li voglio addebitati. Nanni, Paypal. No, devo prendere misure poi. Non so neanche... No, non tocca un cazzo, Luca. Non posso comprare l'ora. Intanto la sto cercando. Poi la comprerò fra tipo 1-2 giorni. Appena prendo le misure. Ok, lasciala qui salvata col codice sconto. Lascia questa pagina in background. Ora continua a vederne mille. Poi quando avrai perso tempo come me, un mese a vederne mille, capirai che quella buona che hai visto era quella che hai visto un mese fa. Io sono qui per darti i consigli. Se fossi qui per farti perdere tempo, te ne farei vedere 10.000, io ti dico quelli che sono le migliori in assoluto. Se devo farti vedere una sedia, ti apro subito il sito di Armand Miller, perché so. Cerca e poi tornerai quando è ora. Perché non ci sono le scrivanie su Belliani, scusami? Nanni, io ti ho detto come comprarla. Non la vuoi comprare? Sei tu il primo. Nanni, stai combattendo contro te stesso. Scrivanie. Stai combattendo contro di te. Non c'è scrivanie sul sito Belliani. Stai combattendo contro... Io ti ho detto cosa dovevi fare. Mano a mano? Ci sono regolabili. Nanni, ti ho detto cosa dovevi fare. Tu non lo stai facendo, ti stai combattendo contro di te. A me piace molto questa. Prendi quella che vuoi, ma io mi dissocio da questa scrivania. Perché? Ti ho consigliato quale, secondo me, ha il bollino di qualità. Di questa non ne voglio sapere adesso. Ok, io ti ho chiesto... Scusami, però io ti ho chiesto un aiuto. Non c'è bisogno che te vieni qua a trattarmi male. Nanni, io te l'ho dato l'aiuto. Te l'ho dato. Te l'ho dato. Ti ho detto cosa è meglio per te rispetto alle tue esigenze. E quella è perfetta per te. Perfetta calzata a pennello per il tuo piede storto a 18 dita. Non ho un piede storto, scusa, questo è un po' di shaming. E anche a livello di budget. Ora tu vuoi trovare una scrivania peggiore che ti costa di più. Per non so quale motivo. Questa cosa mi sta facendo uscita di testa. Io non riesco a capire perché tu vuoi spendere di più per una che è peggio. Ma scusami Luca, qua mi dicono in chat che non dovrei ascoltarti perché ti sei fatto scammare tipo 1500 euro. Io è vero, è vero, mi sono fatto scammare 300 euro per una scrivania, è verissimo. Mi hanno preso i soldi. Poi sono riuscito a riottenerli però. Ho sbagliato. Ed i miei errori ho imparato. Ma te stai dicendo che mi stai dando il sito che poi mi ruba i soldi? Cioè vuoi farmi subire le tue stesse cose? No, era su un altro sito di finanziamenti. Io ti sto dicendo che non voglio che tu commetti i miei stessi errori. Quindi ti ho detto, quello è un sito buono, sicuro, funziona, prendila lì. Se tu invece vuoi commettere i miei stessi errori, li vediamo qua fra un mese. Quando anche tu sei stato scammato da un'altra parte per risparmi a 100 euro. Con una scrivania che poi magari non regge nulla, che si rompe appena ci appoggi qualcosa. No, no, Luca, secondo me, secondo me, non so perché, ma forse non mi senti. Forse non ascolti le mie necessità. È questo, sta lì tutto il fatto. Nanni, quella scrivania è tutto quello che tu hai. Mi hai chiesto una scrivania che? Fossa L. 5,600 euro. Fossa 5,69 con lo sconto. È precisa per il tuo budget. È precisa per la tua grandezza. È precisa per la robustezza perché ti regge tutto. Anche te ti puoi mettere sdraiato sopra, ti tira su, ti tira giù come un calzino. Nanni, l'hai chiusa la cazzo di pagina, io non ho parole. Sì. Nanni, dov'è? L'ho chiusa, mi sa. Apri il carrello, ce l'hai salvata. Apri il carrello. Nanni, apri il carrello. Nanni, mi sono sacrificato per riuscire a fare questo. E ora tu vai a buttare all'aria tutti i miei sacrifici non ascoltandomi. Bene, liberissimo di farlo. Io sono qua che ti sto chiedendo da mezz'ora, Luca, il motore a me non serve. E te continuo a suggerirmi offerte con il motore. A me il motore non serve. Quei 100 euro di motore posso prenderci 10 centimetri in più di lunghezza e larghezza. E allora vai dal cazzo di falegname, Nanni. Non c'è nessun familiare a falegname a Pisa. Google, Google, Google. Apri Google. Guarda. Apri Google. Numero, telefono, falegname, Pisa. Ho capito, ma non voglio chiamare. Numero, telefono, falegname, Pisa. Ho capito, ma vuoi mettere la comodità di ordinare direttamente una cosa già fatta piuttosto che spiegare a uno come farla e poi se la fa male? No, no, così ce l'è su misura. È il falegname di Dario Fabio, chiamalo. Eh no, non lo chiamalo, andrò a trovare di persona, scusami. Va bene, segna, tira via, salva sul telefono e vai a trovare. Ho capito, ho capito, ma il problema del falegname, ho capito, ma il problema del falegname è che la scrivania me la fa tra un mese magari, perché ci avrà altri lavori. Non è che me la fa in un giorno. A me serve per settimana prossima. Ok, allora scrivi Obi, vai andando scrivi Obi. Obi? Obi. No, no, Nanni, no, no. Scrivi l'erua Merlène, allora. Scrivi l'erua Merlène. L'erua Merlène, Nanni, Nanni, l'erua Merlène. Ok, apri il primo, apri il primo, forza, apri il primo link. Nanni, Livorno è perfetto per te, apri il primo link. Apri il primo, Nanni, 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 apri il primo. Cos'è? Scrivi solo legno. Ma è francese? Luca, ti ho detto che mi serve una settimana e te me lo fai spedire dalla Francia. Nanni, Nanni, scrivi legno, Nanni, Nanni, scrivi legno. Legno. Cosa vuol dire legno? Ma non voglio il legno. Scrivi legno. Ma mi serve una scrivania, no legno? Legno, legno. Scrivi legno e basta, fidati. Legno e basta. E che mi piacono ceppi, scusa, faccio ceppi di legno io. Scorri, Nanni. Ma che ci faccio? Ok, tavola legno, 200x60, ti compri quella, 2 metri per 60. Ma non so farmela io. Lamellare di abete, 200x60, spesa 2 cm, regge tutto, vai. Lamellare legno, 28 euro. Guarda, ti costa un cazzo. Te la tagli lì, su misura, gratis il primo taglio. Quindi tu la fai 200x60 è troppo? Farei tipo 180x60. Ho capito Luca, ma quando la tagli poi devi comunque fare la sabbiatura. Cioè devi fare il susciala con la carta da apparati. Te la fanno loro. Ora scrivi, apri, scrivi sopra. Cosa scrivo? Carta vetrata, scrivi, carta vetrata. Luca, ma è non solo bravo io in questi lavori manuali. Nanni, Nanni, lo fanno loro. Tu cazzo, basta che gli dici quanto la vuoi lunga. Adesso fa legnami, scusami. E però la base? Oggi Luca ha imparato una grande lezione. Sei stato mangacato. Tanto stacchi comunque. Al di tutto io ancora non ho capito dove si vendono scrivanie senza sti cazzo di motori. Ora chiaramente dovrò prendere le misure e vedere un po' anche perché la scrivania L, se non la metto in un angolo, secondo me, ha anche poco senso. O se non la metto appoggiata a qualche muro di lato, ha poco senso. Se la devo mettere dritta, me ne prendo una più lunga e boh, infine. Allora ragazzi, concedetemi un minuto. Devo andare a chiamarmi Pab per la casa. Datemi solo un secondo. Luca è stato sconfitto. Comunque oggi il demonio Luca è stato sconfitto e ha pagato la moneta del suo stesso portafoglio. Arrivo un secondo. Nanni, c'è il commercialista incazzato, incazzatissimo. Io ho fatto tardi all'appuntamento adesso. Tempo di far musica di nuovo ragazzi. Allora, scylette i giorni, ggt. Per diverti aiutati e per troverla scrivania adatta per te. Un salutone a tutti. Va bene, nanni. Ciao. E ragazzi, io spero che il video vi sia garbato. Noi ci si vede in live su Twitch, ogni giorno, mezzo giorno e mezzo. A volte si parte anche le 10 di mattina, però mezzo giorno e mezzo, orario ufficiale. Ovviamente ricordate di iscrivervi al canale YouTube, mettete mi piace, commentate, le solite anzate. Al prossimo video. Un bacione grosso. Grazie.